Un attimo, ecco. Tutti per terra, le mani sotto il muro, sono sticciati di lacrimoni. In realtà è il momento in cui le sentite stavano e l'altra scuola mi danno tutte loro. Siete diciotto? Sì, sono un collega, vi ha primato prima per l'irruzione della polizia. Qui è arrivata un'ambulanza, ma non l'ha fatta passare, a voi risulta? No, veramente è chiusa che a quest'ora vi ha richiesto delle ambulanze. Sì, perché viene arrivata una sola, la malattia indietro, non è che noi facciamo fare un altro giro, questa non lo so, perché a me. Veramente mi risulta che i nostri colleghi stanno già sul target e stanno a vedere i feriti. Ok, mi posso passare l'altra persona? Sì, sì. Grazie. Ciao, grazie. Ti sentiamo. Hanno spandato con le jeep. Adesso stanno arrivando anche i giornalisti perché li abbiamo chiamati. Sono spandato, sono entrati, hanno messo tutti con le mani contro il muro. E quindi adesso stanno portando via i ragazzi. Adesso lo sto cercando, scusatemi moltissimo, ma devo andare a trattare. Aspettate qui, mandate che ritimiamo. Sì. 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 Ciao, scusi. Sono piazza. Chiado, scusi, sono piaccio. Sì. Panella, Panella subito, vede. Chiudi, aspetta, aspetta. Il 118 sta arrivando una vagalanga di feriti, dipenderà da quello. Anche per dire qualcosa così avvisiamo che vedi ci... Aspetta, ti posso l'operativo a finire, sono l'offe. Grazie. Con fucile, giù 80. Giù 80, comunica. Per france arrivano tutti i decisori battisti, ci impugliamo tutti quanti, non lasciamo più a questo bordello. Io sono uno con la testa aperta. I ricchi di sopra non li fanno passare, c'è il blocco della polizia. In un modo o l'altro devono raggiungerli. Chi è sul posto viene a rifare un po' di sicurezza. Il tema, Fabrizio, lo sai come? Ci sono cinque ambulanze, quasi tutta casa. Operativo? Sì, è il posto di polizia del San Martino. Sì, ciao, dimmi. Ascolta, mi hanno avvisato dal 118 che stanno arrivando un sacco di persone ferite. Sì, da San Martino? Come mai, scusa? Qua siamo al posto di polizia del San Martino. Eh, ma è strano perché se vanno le ferite siano verso Sant'Iardarena. Verso Sant'Iardarena? Eh, eppure hanno chiamato qua a San Martino, ma vedi che tutti qua li portano. Quindi? Quindi gli scontri sono a Sant'Iardarena? Eh sì, stavo lì da via Cantore. Ah, ecco, qua in zona non c'è niente come scontri? No, che so io, no. Adesso mi informo. Eh, abbi pazienza, sei gentile, fammi sapere qualcosa. Ah, certo. Quanto tutti quanti agitati, anche sui medici. Ma no, non so così, guarda, ti posso sicurare che lì non c'è niente, il problema è qua via Cantore. Eh, perché ci siete dicendo che volta che li portavano qua? Si vede che magari stanno perché lì è più grande o qualcosa del genere, però i riscontri sono lì. Eh, anche perché anche i medici, c'è altra gente che dovrebbe andarsene via, non si leva più via a questo punto. Dilla che da noi da stamattina alle 5 che siamo qua. Eh, lo so, noi eppure siamo qua a fare i doppi turni, quindi. Sì, siamo avanti. Eh, ok. Quindi non ci vuole neanche noi a questo punto se siamo sicuri che vengono qua, capito? Eh, no, no, no. Ok. Eh, non lasciamo più i colleghi da soli, ci fermiamo anche noi. Sì, sì, fermatevi, fermatevi, ci sono dei riscontri. Va bene, ok, grazie, ciao. Ciao.